Giovedì 25 marzo, io sono Guru e nuova puntata del Bet Italia Web Daily Show, il giovedì finalmente dei motori, per oggi spazio anche al calcio con le qualificazioni mondiali, altre 13 partite tra cui Italia e Orlanda del Nord in programma alle 20.45 dal Tardini di Parma, Italia nettamente favorita. Continuano anche gli europei di Under 21 dopo il pareggio di ieri degli azzurrini, oggi ci sono altre 4 partite al via subito alle 15 con Inghilterra e Svizzera. Tennis a Miami, seconda giornata, Caruso, Ucci, Yama alle 17.30 circa, Bedene, Fabiano e Mo contro Musetti alle 22, sono i 3 tennisti azzurri impegnati dopo le eliminazioni di ieri. Ricco il programma di basket europeo, c'è l'Eurolega con le prime 5 partite della 31esima giornata, Milano gioca domani. Continua anche l'Eurocup, Locomotive-Cuban contro Kazan alle 17, primo match valido per il ritorno dei quarti di finale nella partita giocata lunedì scorso a carpi invertiti, successo per il Kazan. Chi uscirà da questo derby russo tra l'altro incontrerà vincente tra Virtus Bologna e Joventut Badalona che sono in campo domani. C'è anche la Champions League, Nidny Novgorod contro E-Cup Atena alle 17, recupero della prima giornata del gruppo K che vede proprio queste due squadre a lottare per il primato. C'è anche Locke-KHL oggi però una sola partita alle 17.30 visto che il Kazan ha già chiuso i conti ed è passata, oggi tocca a Seska-Moska-Yaroslav serie sul 2-2 con la squadra di Moska che sta faticando più del previsto e rischia grosso. Volley-Kopachev-Zenit-San Pietroburgo-Dinamo-Moska alle 17.30 un derby tutto russo, quello che assegnerà in questa finale di ritorno la Cev Cup maschile. Vediamo i risultati di ieri, in free pick ci manca un gol norvegese per la tripla di Darius, siamo beffati anche dall'1-1 dell'Olanda nella doppia di Under-21, invece la Germania ci aveva ben ripagato con un bel 3-0 se non sbaglio. Riprendiamo qualcosina dal gol-gol in Finlandia-Bosnia che è finita 2-2. Oggi voglio fare un aggiornamento anche di golf, vi darò anche una free pick sui match, sui secondi turni che sono in campo oggi. Ieri avevo detto occhio a Rosner alla prima contro Deschambault, il francese stava sopra 3 di quota, ha vinto davvero, io non l'ho presa. Sulle mie giocate ho preso Kisner a 2-15, Garcia a 1-95, pesanti invece la sconfitta di Gok, pareggia invece Atton. E chiudiamo con Darius, ieri micidiale nel tennis, 15 consigli esatti e solo 3 errori nel suo VIP, tra l'altro ha fatto anche un bel raddoppio sempre sul tennis a Miami, seguitelo nel free, c'è il link qui sotto e poi magari valutate l'ingresso nel canale VIP per tutti i suoi contenuti. e le sue giocate. Sport americani, questo è successo nella notte, avevo dato una top pick su Denver che dopo 6 vittorie di fila in trasferta perde pesantemente contro Toronto, i Raptors al contrario tornano alla vittoria che mancava ormai da un po'. Stessa cosa per i Suns che perdono di 1 all'ultimo secondo e Booker poteva anche vincerla, avevo dato anche 2 pro bet, quella su Middleton che ha fatto 27 punti, aveva una linea 21,5 e anche quella di Trae Young, se non sbaglio a 26,5 e ne ha fatti 29. Nelle pick statistiche ci prendiamo il rimborso sul primo quarto degli Hornets che fanno 26,26, era anche la free pick che avete avuto su Instagram e sul canale Telegram di Betting Maniac. Prendiamo l'under primo tempo a Chicago, non quello a San Antonio, i Clippers sono partiti sparati, hanno segnato 41 punti nel solo primo quarto, davvero troppi per pensare di fare under nel primo tempo. Entrano anche le quote alte a 2,65 sulla combo Milwaukee vincente più over, è arrivata un'altra vittoria dei Bucks contro i Celtics che sono davvero in affanno in questo momento e anche la quota 2 con over 2,5 stoppate di Rudy Gobert che continua davvero a dominare come se non ci fosse un domani, non per niente il favorito per il titolo del miglior difensore dell'anno. In NHL avevo dato i Jets che hanno vinto a Vancouver e anche la combo di Pittsburgh che ha stracciato 5-2 i sempre più dereliti e vergognosi Sabres, io avevo dato anche in free pick la combo Pittsburgh vincente più over 4,5-2,06 che va in cassa. Non entrano invece i Kings che anche ieri hanno dominato 44 tiri, ma Martin Jones per San José torna a fare il fenomeno, 42 parate, ha fatto tipo 83 parate nelle ultime due partite e pensare che è uno dei portieri che ritengo tra i più scarsi mi sta davvero zittendo. Siamo sempre in attesa del torneo NCA che torna sabato con le Sweet 16, oggi abbiamo però 5 partite di NBA, tra cui il big match Lakers 76er, a dire il vero è un big match un po' svuotato dai veri protagonisti, LeBron James, Anthony Davis da una parte e Joel Embiid dall'altra. Ben 11 partite di NHL e a chiudere c'è tra l'altro l'interessantissima Colorado contro Vegas. Oggi i motori, velocemente andiamo a vedere le quote al via sia per la Formula 1 che per la MotoGP che riprendono in questo fine settimana, nel tardo pomeriggio poi torna Panda in una puntata di Motorpeak per approfondire il discorso, fare una chiacchierata e per vedere le prime peak, più che altro credo antepost, quindi non mancate, sarà nel tardo pomeriggio. Comunque Formula 1, Gran Premio del Bahrain, sono tante le novità al via quest'anno sia a livello regolamentare ma anche a livello di scuderie piloti, Sainz in Ferrari, Ricciardo con McLaren, Perez con Red Bull, Vettel con l'Aston Martin e anche ovviamente il ritorno di Fernando Alonso con la Alpine. Dopo aver impressionato nei test prestagionali, Verstappen parte davanti a tutti sul tracciato medio orientale dove tra l'altro l'olandese non ha mai vinto. Alle sue spalle c'è il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che a Shakira ha già trionfato in quattro occasioni, il podio dei favoriti è completato dal suo compagno di scuderia Walteri Bottas però è quotato abbastanza alto a 7,50, abbastanza staccato rispetto ai primi due. Partono lontanissime ovviamente le Ferrari di Leclerc e Sainz. Una curiosità statistica dal nostro archivio, lo scorso anno Verstappen ha rifilato un 13-0 nei test a test in qualifica contro Albon. Quest'anno ha un compagno molto più competitivo, chissà se ci riuscirà a fare il filotto, il cappotto anche contro Perez, io credo di no. MotoGP invece si inizia in Qatar e sarà una stagione incerta come quella che abbiamo appena vissuto lo scorso anno. Con certezza sappiamo che Marc Marquez non parteciperà alla prima gara e probabilmente nemmeno alla seconda, però dai test abbiamo visto che Paul Espargarò è pronto a giocarsi almeno il podio con la Honda. Il favorito al via sarà l'attuale campione del mondo, Joan Mir, nonostante non abbia brillato in verità nel corso dei test, da non sottovalutare l'armata Yamaha con Maverick Vignales e Fabio Quartararo super agguerriti e il duo del team Petronas con Morbidelli e Valentino Rossi. Menzione d'onore alla Ducati che stravolge la line-up, ci saranno Bagnai e Miller come piloti di punta e proprio Miller a prendersi il ruolo del favorito nel primo Gran Premio di stagione e la vittoria dell'Australiano che tra l'altro invece ha ben figurato nei test all'Osail e offerta a tre. La Ducati del resto qui è sempre nata forte. In Qatar anche la quota di Francesco Bagnaia non è malissimo a 7,50. È la stessa del campione in carica Mir e del suo compagno in Suzuki Alex Rins. Il secondo pilota nella lista dei favoriti è però in verità Franco Morbidelli. L'italiano ha trionfato sul tracciato di Losail nel lontano 2017, però era ancora in moto 2. Il successo nella classe regina si gioca a 4,50 questa volta. Seguono a ruota i due piloti della Yamaha ufficiale, Quartararo e Vignales entrambi a 5,50. A Valentino servono impresa, i bookmaker non ci credono, lo pagano a 20 volte la posta. Il campione di Tavuglia ha salito sul gradino più alto del podio, ben 4 volte in Qatar, non ci sale però dal 2015. Va bene, ne parleremo approfonditamente dopo di quote scommesse con Panda. Le free pick di oggi sono 4, 3 sul calcio. Iniziamo da questa multipla, qualificazioni mondiali a 3,91, stay basso, stay 0,5. Continuiamo le nostre escursioni sugli altri tips della nostra redazione e oggi presentiamo una multipla dei The Shot, ragazzi che giocano molto a sistema, multiple, quote alte sul calcio. La giocata di oggi prende in considerazione 5 partite della qualificazione mondiale di calcio, andando sulle favorite con le classiche giocate 1x2. Per il loro canale trovate come sempre il link qui sotto, The Shot. Le giocate sono Svizzera vincente contro la Bulgaria, Danimarca vincente contro Israele, Albania vincente contro Andorra, la nostra Italia che non dovrebbe fallire contro l'Irlanda del Nord, così come la Spagna dovrebbe battere la Grecia. Come seconda giocata con D'Artagnan ci occupiamo proprio di Spagna-Grecia, Grecia meno 1,5, Asian handicap a 1,75. Prendiamo quindi la Spagna vincente con almeno due gol di scarto, non perde in casa dal 2018, è imbattuta nelle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo dal marzo 1993 e l'ultima uscita casalinga della Spagna senza vittorie nelle qualificazioni che fossero dei mondiali o degli europei risale addirittura al marzo 2013. Quindi davvero una tradizione super vincente alle qualificazioni per gli iberici. Nell'ultima partita, come abbiamo visto la Spagna, questa ha dominato 6-0 contro la Germania, mentre la Grecia non è andata oltre uno scialbo 0-0 in casa contro la Slovenia. Ancora con D'Artagnan ci prendiamo una giocata anche sull'Under 21, diamo fiducia ai giovani lusitani che hanno vinto le ultime sette partite. La Croazia è vero che arriva da un 7-0 Roboante, ma contro la piccola Lituania e giocava in casa. Andiamo quindi con il Portogallo vincente a 1-72, europei Under 21. E infine una mia giocata di golf, sul secondo turno di oggi è il VGC Dell Match Play, Jason Kokrak vincente contro Dylan Fritelli a 1-70. Kokrak sta colpendo forte, ottimi numeri d'altista, tenendo ottimi numeri anche nelle statistiche di ball striking. Il grande punto debole per lui era il putting, però mi ha sbalordito, lo abbiamo visto bene anche nella vittoria contro Zalatoa Rissieri. Oggi si gioca praticamente la vittoria del girone contro Dylan Fritelli, che a sua volta ha vinto a sorpresa contro Finau, molto per demerito dell'avversario, a passo davvero fuori fase. Kokrak ha raggiunto il numero 31 del ranking mondiale, Fritelli è 40 posizioni indietro, vediamo se questa differenza si farà sentire, io do fiducia a Jason Kokrak, che può fare bene a 1-70 vincente. Nel match di oggi. Siamo arrivati alla fine, come detto vi ricordo nel tardo pomeriggio ci risentiamo con Panda per Motor P, che le giocate su Formula 1 e MotoGP, io vi do appuntamento a domani, ultima puntata della settimana, però non ci sono i campionati, andremo comunque a comprire come sempre il venerdì e tutto il weekend di scommesse sportive, parleremo delle nazionali di calcio, ma probabilmente ne approfitteremo dandovi anche altre pic su altri sport in campo nel weekend, basket italiano, volley, c'è il torneo NCAA, ci sono tanti sport americani, ci sono appunto i motori, insomma tanta roba da vedere, quindi ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona giornata, fate buone scommesse, puntate sempre con la testa, ciao!